ciao amici da parovista oggi sempre qui a finale ligure esattamente varigotti e andiamo a trovare l'amico angelo dei nick bagni guardate che paesaggio 24 settembre 2012 ciao amici da parovista ciao amici da parovista su youtube il regista di strada lo scrittore con la telecamera chiamatemi come volete e divertitevi con i miei corti ciao amici da nick beach club varigotti mare